Meggiugorie, messaggio della Regina della Pace, 25 aprile 2023. Cari figli, vi invito tutti ad essere portatori della pace e della gioia di Gesù risorto, per tutti coloro che sono lontani dalla preghiera, affinché, attraverso le vostre vite, l'amore di Gesù li trasformi a vita nuova, vita di conversione e santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver guardato il video.